Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI ci sono tre chilometri di coda per incidente tra Montopoli e Ponte d'Eraest in direzione mare, per lavori un chilometro di coda tra Lastra Segna e Montelupo, sempre in direzione mare, in A1 per traffico intenso rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino, e per traffico intenso code in uscita a Valdichiana in direzione Roma. Per lavori ci sono code a tratti in A11 tra il Bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Massarosa in direzione Viareggio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!